ciao a tutti oggi ho da sistemare un iphone 5 che non carica come vedete collego il cargatore e non fa niente ma è il telefono c'è poca batteria così potete vedere che non carica non si collega il problema per il quale non carga questo telefono è il dot di carga quindi andremo a aprirlo e sostituirlo con uno nuovo cosa ci serve per fare questo lavoro ventosa e un cacciavite stella adesso utilizzando il cacciavite procederemo a togliere queste tre biti per potere scollegare la batteria e il dot di carica adesso procediamo a togliere la batteria dopo di che scollegiamo il dot di carica dopo aver scollegato il dot di carica procediamo a rimuoverlo per rimuovere il dot di carica dobbiamo togliere sette viti ciao a tutti 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 adesso colleghiamo il dot di carica e attacchiamo la batteria e proviamo se abbiamo soluzionato il problema per cui non cargava il telefono ciao a tutti io ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti come vedete il telefono adesso carica quindi problema risolto 2 di carica sostituito il telefono ritorna a caricare